ciao ragazze sto testando lo steel shape quello di alia per costruire una mandorla quindi adesso che sono in fase di bombatura vi faccio vedere come rimane fermo perché io cercavo qualcosa che si lavorasse bene e che mi disse il tempo di comunque di fare le mie cose quindi intanto che io vado a prendere l'altro così vedete non si muove e quindi perché io sono un po lenta a fare queste a fare queste forme quindi mi serve qualcosa che mi dia il tempo materiale di controllare di controllare tutto visto che stavo facendo questo ho detto perché non farvi vedere anche perché abbastanza morbido per essere lavorato noi quali il gene di ma come vedete non si muove per niente si lavora bene e oltretutto non scotta neanche perché ho già fatto altre le altre dita quindi si riesce tranquillamente fare la costruzione senza troppe quindi non cola per niente quindi